È stato il settimo viaggio apostolico del pontificato a essere protagonista oggi all'udienza generale. Ai fedeli radunati in aula Paolo VI, Papa Francesco ha voluto raccontare i momenti salienti del pellegrinaggio che lo ha condotto prima in Sri Lanka e poi nelle Filippine. Così tra i ricordi del pontefice è subito affiorata la canonizzazione di Giuseppe Vassa, Colombo in un paese di grande bellezza naturale che sta cercando di ricostruire l'unità dopo un lungo e drammatico conflitto civile. Un processo che deve essere sostenuto soprattutto apprecisato dagli esponenti delle differenti tradizioni religiose, anche al fine di poter risanare col balsamo del perdono quanti ancora sono afflitti dalle sofferenze degli ultimi anni. Nelle Filippine, dove la Chiesa si prepara a celebrare il quinto centenario dell'arrivo del Vangelo, il successore di Pietro è voluto anzitutto essere vicino a quanti hanno subito la devastazione del tifone Yolanda. La cura dei poveri, ha precisato Papa Francesco, ricordando anche l'incontro con le famiglie e con i giovani, è un elemento essenziale della nostra vita e testimonianza cristiana e comporta il rifiuto di ogni forma di corruzione. Posso dire, possiamo dire tutti, che la causa principale della povertà è un sistema economico che ha tolto la persona dal centro e vi ha posto il Dio denaro. Un sistema economico che esclude, esclude sempre, esclude i bambini, gli anziani, i giovani, senza lavoro, e che crea la cultura dello scarto che viviamo. Ci siamo abituati a vedere persone scartate.